Il circo è tornato in città e al suo attendamento ha fatto ecco la protesta della lega antivivisezionista con un presidio per dire ancora una volta no allo sfruttamento degli animali. Diciamo che una società civile, che vuole definirsi civile, non può continuare ad ammettere spettacoli dove vengono usati e sfruttati gli animali. Ricordiamo che sono esseri senzienti che vengono privati dei più elementari diritti che la natura ha dato loro, vengono privati della libertà, vengono sottoposti a viaggi estenuanti e soprattutto vengono addestrati con metodi violenti e dolorosi. Cosa ci aspettiamo dalle istituzioni? Ci aspettiamo che le istituzioni diano un segno forte. Sappiamo bene che ci sono problemi nel vietare l'attendamento di tali circhi, ma si possono mettere in atto altre azioni. Gli circhi con animali ricevono finanziamenti dal Fondo Unico per lo Spettacolo e i circhi senza animali ricevono una briciola di questi finanziamenti. Si potrebbe anche pensare che all'attendamento di un circo con animali potrebbe seguire l'attendamento di un circo senza animali. E il circo è tornato al centro anche del Consiglio Comunale con un'interrogazione del consigliere di Oraghinelli, Angelo Rossi. Mi trovo in pensamento che il Comune di Arezzo faccia cassa con dei soldi sporchi del sangue e delle sofferenze degli animali. La mia proposta è che questi soldi che ci ha dato il circo medrano per l'attendamento e se ci saranno altri circhi in futuro vadano in progetti per la tutela degli animali e nessun'altra cosa. Grazie.